no jessi è un filmato? ahah dietro mi campro anche io lo vado dietro la coppia il carrello tesoro no no non lo spazziti dentro non lo spazziti dentro non lo spazziti dentro non lo spazziti dentro non lo spazziti ahahah oh venga ti metto la strada oh guarda che ti prendo la strada guarda che ti prendo la strada figa la birra è ma ti l'hanno via ancora ahahah la persona è mia venga ahahah 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 guarda la macchina guarda la macchina ahahah ahahah la tua infame si andò a cazzando a capulli di cosiddetta oh crissi che fai con tono sei una cazzina di parito fumo fumo io provo un insieme beh facciamo un incidente passalo Jessica è andata a farti la cipa cazzolo noi abbiamo qua su mangiare la birra ecco la guardala guardala mi vuoi vedere mi seguo ma è fosso cazzo ok e guardala ci sono le telecamere nel copo qua si rifiutano dalle gruppe di bellissimi non è mai cazzo cazzo faccio tutti filmi adesso faccio tutti filmi faccio tutti filmi faccio giusto Grazie.